Cari amici del volto del ring benvenuti in questo nuovissimo video di unboxing di dvd da bw e oggi doppio colpaccio in un negozio di usato che c'è dalle mie parti il primo è il collezionista di occhi ovvero si no evil con attore protagonista Kane guardate un po che figata veramente molto bello andiamo a vedere poi la confezione dietro all'involucro di cartoncino davvero spettacolare eccolo qua il collezionista di occhi si no evil bellissimo e poi passiamo al piatto forte ECW the most extreme matches double dvd guardate che bello rarissimo ragazzi infatti mi è costato la bellezza di ben 20 euris con la bellezza di 350 minuti di azione veramente estrema guardate che bello con la consuetà locandina che ci guida al contenuto anzi ai contenuti e poi la pubblicità per altri contenuti da bw e eccoli qua disco uno e due e dunque ECW the most extreme matches e poi si no evil ovvero il collezionista di occhi bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate in questo caso il like ma soprattutto l'iscrizione al canale per farlo crescere sempre di più e vi do appuntamento al prossimo video di unboxing ciao